Un luogo dalla duplice faccia, un luogo unico e invidiabile, un luogo all'aperto e ricco di iniziative. È il centro storico di Fossombrone, definito da tutti il più grande centro commerciale all'aria aperta del centro Italia, che già da quest'estate è stato protagonista con eventi serali a tema e con l'apertura dei negozi e che anche quest'anno, in questo inverno, nel periodo natalizio, renderà Corso Garibaldi ricco di appuntamenti legati al momento più magico dell'anno. Torna quindi Fossombrone Magic Christmas, il contenitore di eventi che dall'8 dicembre al 7 gennaio vedrà uno dei borghi più suggestivi e caratteristici della regione Marche animarsi con tanti eventi per tutte le età, con una particolare attenzione a più piccoli, ma anche ai ragazzi. Cominciamo con dei bei contenuti, la pista di patinaggio, 30 metri per 12, nel parcheggio Ex Buca, è conosciuto così a Fossombrone, dico così, ma dal 2 di dicembre è stato intitolato a San Giovanni Paolo II, il nuovo gioco fantasy, che riprende un po' il gioco che abbiamo fatto ad Halloween, ma adesso per Natale, sarà un gioco fantasy adatto anche per i bambini piccoli, per i ragazzi, le famiglie, quindi sono quattro serate anche qui. Poi abbiamo laboratori musicali, a partire dai bambini piccolissimi, il nido musicale da 1 a 3 anni, fino ai ragazzi più grandi, che si possono esercitare nel canto, nel suono delle percussioni. Poi laboratori dove i bambini possano mettere le mani in pasta, fare i biscotti di Natale. Un Natale in misura di bambino, quindi, quello che il Comune, in collaborazione con Fossombrone Center Shopping, la Proloco Forum Semproni e il sostegno della Conf Commercio e della Fondazione Monte di Pietà, ha organizzato. Un bambino che sarà protagonista non in forma passiva, ammirando i giochi di luci o gli spettacoli, ma in forma attiva attraverso laboratori, giochi e caccia al tesoro. Questo sarà un lennesimo banco di prova per la nostra amministrazione, che da subito ha cercato di puntare sulla valorizzazione del turismo, in quanto riteniamo che sia una risorsa fondamentale, vista purtroppo la situazione economica di altri settori. Fossombrone tanto da offrire, bellezze naturali, bellezze culturali, per cui Natale sarà un'occasione per cercare di vogliare di nuovo gente a venirci a trovare, in modo tale che poi possa anche in futuro tornare a farci visita. Intanto è che durante l'evento di Natalizia è prevista l'apertura della chiesa di San Filippo, forse un po' il nostro fiore all'occhiello, con visite guidate tutti i weekend. Saranno aperte, come sempre, anche le altre strutture museali, quadrerie, per cui ci auguriamo che chi verrà a Fossombrone per fare shopping ne approfitti anche per dare un'occhiata alle nostre bellezze. L'inaugurazione ufficiale dell'evento Fossombrone Magic Christmas si terrà, venerdì 8 dicembre, con l'accensione dell'albero e lo spettacolo previsto per le ore 17.45.